C'erano 800 impianti fermi a Brescia che aspettavano a me di essere collegati. Tutto è nato da un'esigenza che avevamo da sistemare, il tempo dell'azienda, da 100 anni, e cominciava a dare i segni dell'età. Allora è nata l'idea con un amico, abbiamo iniziato a parlare, lui era interessato, stava studiando per poter realizzare anche una cosa simile. È un po' complicato perché capire come si deve fare, capire in che modo farlo, capire i vari scaglioni che ci sono per gli incentivi ci vuole parecchio tempo, però alla fine io dovevo fare il tetto, l'ho fatto a misura proprio del fatto in funzione dei pannelli fotovoltaici. Io l'ho fatto 20 kilowatt, sono circa, adesso vado a memoria, però sono circa 180 metri quadrati di tetto. Ho fatto uno specchio. Negli ultimi tre anni del consumo di energia che io facevo ovviamente nella nostra azienda, non è un consumo continuo, abbiamo dei picchi in base ai periodi e usiamo più o meno energie. Abbiamo visto che consomevamo circa dai 23 ai 25 mila kilowatt all'anno e dovremmo con questo investimento coprire tutto il nostro fabbisogno. Quando l'abbiamo fatto noi il tetto massimo era 20 kilowatt per, anzi 19,9, non stava sotto i 20 kilowatt per fare lo scambio sul posto. Oggi è già cambiata, oggi si può arrivare fino a 1200 kilowatt, dunque è ovvio però che cambiano anche molto i costi perché ovviamente man mano è molto onerosa la cosa. Dopo negli ultimi tre mesi è cambiato anche il mondo perché prima le banche facilitavano tutto. Oggi è diventato più difficile accedere al credito, è diventato più difficile fare tutto. Si ha un grosso vantaggio quando si ha un grosso consumo, come tutte le cose. Uno lo fa e ci deve credere, se ci crede lo fa e sennò non è inutile che si metta neanche, non si indizia neanche. Io ci credevo, una cosa che a me piaceva era già parecchie anni, perché io avevo pensato addirittura di farlo a terra perché abbiamo molti terreni di cui ne abbiamo tanti in collina che sono improduttivi e si era pensato di però avere una problematica molto diversa perché sono facilmente prelevabili, dunque è facile. E l'investimento di? L'investimento solo dei pannelli sono 120 mila euro, cioè solo di impianto. e come tempistiche per... Ma la tempistica, allora, come dicevo io ho ristrutturato il tetto, dunque mi è venuto anche facile perché avevo qua gru, avevo qui tutto e era tutto pronto nel momento che nel giro di due mesi ne abbiamo fatto tutto. Abbiamo sistemato il tetto e posizionato i pannelli. Tutto io ho fatto. Non si è piaciuto nessun gruppo manager qui? No, io ho fatto direttamente, ho contattato per prima l'Enel, ho contattato, mi sono informato, ho navigato un po' in internet, ho cercato di capire bene, di chiedermi le idee io per capire cosa andavo in conto. Dopodiché ho scelto delle aziende che secondo me erano in grado di fare questa cosa. Lei ha finito l'impianto quindi? Noi abbiamo finito l'impianto, finito, collaudato, era il 17 di agosto. Da lì è iniziata un'ecatomba praticamente. Noi avevamo un... Noi non eravamo... Cioè, è successo che nell'ultimo anno avevamo cambiato fornitore di energia, eravamo con Edison e non più con SM. Però il problema è che Edison si appoggia sul ponte, sulle linee degli ASM. Allora noi abbiamo dovuto prima passare la documentazione a Edison, la quale l'ho passata a SM e ogni mano che passa se la prendono con grande... Con gran calma. Dovrebbero esserci 60 giorni di legge per dare una risposta, ma sono passati quanto? Quattro mesi? Cinque mesi? Ma alla fine ne sarebbero passati molti di più, perché dopo ho cominciato a scendere in campo io, io sono una persona abbastanza conosciuta a Brescia. Ho anche parecchie conoscenze e ho cercato di capire e durire al problema, perché alla fine a me serviva solo il contatore per contare. Ci vuole un contatore bidirezionale che conta quanto io ne metto in rete e quanto ne prelevo, tutto lì. Alla fine ho lavorato i dieci minuti, però non riuscivo a capire in topo anche l'azienda che mi ha fatto, che mi seguiva la documentazione. Faceva due e mele alla settimana, io ho tutta una documentazione, ho un pacco di carte così, di corrispondenza con la 2A. Alla fine ho capito che se dovevo prenderli un po' per la gola, sono andato al giornale di Brescia, più di una volta, perché prima, anche lì ci vuole un po' di tempo, prima di riuscire a trovare la persona giusta, però devo dire che alla fine ho trovato una grande disponibilità. Hanno capito che, insomma, è un problema che oggi come oggi era abbastanza sentito da parecchia gente, sono stati qua, hanno visto, hanno chiamato la 2A. Chissà perché, il giorno dopo che sono stati contattati giornali di Brescia sono stati contattati e nel giro di quattro giorni l'impianto è stato messo in funzione. Però dal 17 di agosto siamo arrivati al 16 di dicembre. Il fatto è che, nella mia stessa situazione, ce ne sono tanti e un mio amico industriale aveva fatto 200 kilowatt e ancora fermo dal 18 di agosto. Anzi no, dal 16, il giorno prima di me era andato pronto. Siamo partiti assieme, aveva fatto la stessa ditta, 200 kilowatt e fermo ancora. Questa è la realtà del nostro governo che dice che la gente deve investire nelle energie rinnovabili. Non devono, non devono mica dare tanti incentivi alle aziende, devono togliere di tutta questa assurda burocrazia. Finché io ho avuto pazienza, ho detto, va bene, abbiamo pazienza. Poi ovviamente io, come tutti gli imprenditori, sono impegnati, non tutti i giorni ti ricordi che devi fare questo, ma nel frattempo il tempo passa. Quando sono arrivato alla fine di settembre, ho detto, ma è passato un mese e mezzo, ma non avevo avuto nemmeno un contatto telefonico. Ho detto, forse sarà il caso che mi muova io, però ci ho impiegato altri due mesi. Hai dovuto contattare? Sì, ho dovuto contattare giornali più che un sacco di gente, insomma. Cioè, poi, quando sono venuti, io non è che voglio dire, però sono venuti qua, dieci minuti hanno messo. E io dico, dieci minuti sono dieci minuti. C'è più il tempo di cercare me che è in giro per l'azienda che è quello di mettere un contatore. Allora, o siamo tutti grandi aziende che possono supportare questo, ma anche perché cinque mesi fermo, c'erano cinque mesi che abbiamo preventivato. Tra l'altro noi il picco di energia la usiamo proprio dalla fine di agosto fino alla fine di ottobre, che siamo in piena vendemmia. E tra l'altro è il periodo in cui renderebbe di più l'impianto, chiaramente. Sì, esatto, poi tutto un insieme di cose, perché dopo oltre a questo c'è l'incentivo statale, ci sono tante cose, sono tanti soldi che abbiamo perso, insomma, alla fine. Voi riuscite a ammortizzarvi a quanto tempo questi impianti? Abbiamo calcolato dieci anni, poco meno, poco meno. Dopo, ovviamente, questo dipende molto anche se il trend del prezzo dell'energia attiene questo, perché se continua ad aumentare ovviamente si ammortizza anche prima. Se invece diminuisce, li dipende. Però tra l'incentivo, tra l'energia, di cosa costa oggi, più o meno sono dieci anni, insomma. E la durata dei pannelli? Sono garantiti vent'anni. Ci sono pannelli che sono attivi già da trent'anni e funzionano ancora. Domani è un introito in più, che sono cose che, una volta che avremo finito di pagare quello che stiamo pagando, poi resterà un introito per noi. Però io dico che il fotovoltaico è una bella cosa, è una cosa molto interessante. Il problema è tutto se una persona ci crede oppure no, come tutte le cose. E dopo, torno a ripetere, il problema è la burocrazia. In Italia siamo asfissiati alla burocrazia. Parlano tanto di aiutare le aziende, io lo dico sempre, non bisogna che dargli tanti soldi alle aziende, bisogna semplificargli la vita. Grazie a tutti.